Sono un precario, sì, lavoro al liceo musicale, che è una realtà abbastanza nuova, sono istituti dal 2010 e di fatto non ci sono stati corsi abilitanti specifici per il liceo musicale. Sono un precario, lavoro da 4 anni al liceo musicale, quindi noi docenti, che nella mia situazione ne siamo tantissimi, ci aspettiamo una stabilizzazione, un percorso comunque riservato per noi, che tenga conto delle nostre competenze maturate sul campo e maturate attraverso le nostre competenze di studio, la nostra formazione di studio che attualmente è l'unica che ci permette di poter insegnare al liceo.